Siamo con il Capasso dell'UFR, purtroppo una sconfitta, a poche occasioni partita molto tattica, che partita è stata vista dalla panchina? Dalla panchina c'è stata voglia sicuramente, però purtroppo la squadra a quanto pare, nonostante le belle prestazioni che abbiamo inanellato contro Maccabi, Borgo Rosso in Coppa, la squadra non riesce a concretizzare le partite contro le squadre, in teoria, perché è un campionato molto equilibrato, ma in teoria meno forti come noi, Atletico Smistamento, Lupo Amatori, andiamo in confusione, non siamo cattivi il giusto, non siamo pronti il giusto, si è vista pure lunedì scorso con Lupo Amatori che abbiamo perso 2-1. Quando è contro una squadra decisamente di classifica più alta rispetto a noi, c'è più impegno, c'è più cattiveria, oggi è mancata la cattiveria, la voglia c'era, mancava la cattiveria. Grazie a Capasso. Grazie.